Ciao domingo, benedosi, io li personali temi di mantenzione di ordine pubblico, onde c'è Dugano, Curmiel e VKC, ha dato il controllo di traffico. Generali, ma Wegnar Santa Cruz, nella altura di Camino Prospero Royer, Wegnar Centuele Brothers, nella altura di Cachetone, Camino Franco Riel, nella altura di Franco Riel Ball Park, e controlla che ha tommo il luogo. Mina può controllare tanto veicolo come persona, a controllare un totale di 46 veicoli e 29 persone, e a parte un totale di 17 processi verbali, ma differente infracciazioni come te. També detenere due uomini, despesi un'entrata odiziale, e hanno 5 matti di marijuana, e detenere un uomini che non ha cooperato con la polizia, ma esce nel trabalho e controlla anche da continuare.